Un insospettabile, soltanto con qualche precedente per reati fiscali, ma questa volta finito in un giro forse più grosso di lui. Un 29enne di Frosinone, ex operaio ora disoccupato, è stato arrestato perché trovato in possesso di quasi un chilogrammo di cocaina. Droga che, secondo gli inquirenti, avrebbe fruttato circa 200.000 euro al mercato dello spaccio e sarebbe potuta essere divisa in almeno 3.000 dosi. Nell'abitazione dell'uomo, a Morolo, oltretutto le forze dell'ordine hanno anche rinvenuto due pistole e oltre 50 cartucce. L'operazione congiunta di carabinieri e polizia è partita da un semplice controllo in un'abitazione nella zona di Castel Massimo, una villetta disabitata che era già nota alle forze dell'ordine poiché in passato vi si erano nascosti due pregiudicati, un pugliese e un bulgaro, poi arrestati. Nella zona, infatti, i residenti avevano segnalato giri sospetti e proprio a ridosso della casa è stato trovato il 29enne a bordo della sua auto. Come ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo stava tentando di disfarsi di una custodia per attrezzi elettrici all'interno della quale è stata trovata la droga. Una perquisizione successiva, nella casa di Morolo, del 29enne, ha permesso di ritrovare anche due pistole nascoste nella centralina dell'impianto di riscaldamento, un assegno da 60.000 euro, soldi in contanti, un altro piccolo quantitativo di cocaina e un bilancino di precisione. I vicini di casa avevano segnalato la presenza dei movimenti particolari. La nostra conoscenza pregressa comune ci ha portato a fare dei servizi di osservazione. Ieri, quando è arrivata una classe B, una Mercedes, con a bordo poi l'ha arrestato. In realtà l'abbiamo trovato praticamente con in mano queste più dosi di cocaina. Abbiamo poi proceduto a perquisire l'abitazione propria del ragazzo a Morolo e lì abbiamo trovato due pistole. Polizia e carabinieri dunque di nuovo all'opera insieme. Le indagini a questo punto vanno avanti per capire se la casa di Cassel Massimo fosse la base di un'attività di spaccio e per capire anche se le armi sequestrate siano state utilizzate per altri fatti delittuosi. Abbiamo lavorato insieme sia nelle prime fasi che poi durante il processo di tutta l'attività di indagine che ha portato a diverse perquisizioni. Ancora una volta le due forze di polizia hanno lavorato in sinergia tra di loro dimostrando grande professionalità e un affiatamento, quasi come fossero un'unica squadra.